Salve e buonasera a tutti, benvenuti al penultimo appuntamento serale della seconda settimana del mese di giugno. Oggi i principali listini europei chiudono appunto la penultima sessione della settimana in territorio positivo. DAX che chiude a più 0,45%, IBEX più 0,06%, CAC di Parigi più 0,01%, FUZZI Londra chiude meno 0,01% e FUZZMIB che riesce a chiudere, a strappare la migliore performance della giornata chiudendo esattamente a più 0,76%. In particolare è stato quindi un giovedì tonico per il FUZZMIB dopo un avvio in rosso che quindi cresce però per quanto riguarda l'attesa per il G20 che si terrà appunto in Giappone ad Osaka il 20 e il 29 giugno, occasione in cui il presidente americano Donald Trump intenderà incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping per riprendere a negoziare un accordo commerciale. Focus anche sulla Fed che il 19 giugno potrebbe fare chiarezza circa l'effettiva possibilità di un futuro taglio dei tassi. Bene, mentre invece per quanto riguarda le news che sono state rilasciate nella seduta odierna, si parte con il tasso di inflazione della Germania che si è attestato a maggio all'1,4% su base annua e allo 0,2% su base mensile. Si tratta della lettura finale che conferma la stima preliminare e le attese degli analisti. Mentre invece per quanto riguarda la produzione industriale della zona euro resta molto debole. Secondo i dati diffusi dall'Eurostat il dato ha mostrato un calo mensile dello 0,5% dal meno 0,4% della passata rilevazione. In linea con le attese su base annua invece la produzione è scesa dello 0,4% dal meno 0,7% della passata rilevazione. Non subisce modifiche invece la politica monetaria della Banca Nazionale Svizzera che ha mantenuto stamattina nell'ultimo meeting invariato la propria politica monetaria espansiva. Il tasso di riferimento è stato confermato almeno 0,75%. La banca si legge in una nota, ribadisce la propria disponibilità a intervenire se necessario sul mercato dei cambi, considerando la situazione valutaria complessiva. L'istituto ha inoltre fatto sapere di avere introdotto il tasso guida BNS. D'ora in poi le decisioni di politica monetaria saranno prese e comunicate attraverso la fissazione del livello di tasso. Il tasso guida SBNS sostituisce la fascia obiettivo per Libor a tre mesi impiegata finora ed è attualmente pari a meno 0,75%. La politica monetaria espansiva rimane pertanto invariata. Salgono invece nella settimana chiusa all'8 giugno scorso le richieste di sussidio di disoccupazione negli USA è arrivata a toccare le 222.000 unità contro le 219.000 precedenti, dato è peggiore delle stime degli analisti che avevano previsto 215.000 unità nella media delle ultime quattro settimane. In base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano le richieste si sono attestate a 217.750 unità. Mentre invece andiamo a vedere domani che cosa ci offre il calendario alle 6.30 abbiamo la produzione industriale di aprile del Giappone, poi i vertici dei ministri delle finanze che durerà tutta la giornata, poi alle 14.30 si passa direttamente durante la sessione americana con le vendite al dettaglio di beni essenziali di maggio, poi vendite al dettaglio di maggio alle 15.00 e 15.00 la produzione industriale e poi alle ore 16.00 l'indice di fiducia dell'Università del Michigan. Bene, questo è il calendario macroeconomico dell'ultima sessione della settimana, ovvero la seconda settimana del mese di giugno. Adesso andiamo ad analizzare con attenzione quello che è successo nella serie odierna. Per quanto riguarda l'euro-dollaro abbiamo una seconda giornata di fila negativa, con i prezzi che si riportano altre volte di sotto 1.13 e precisamente abbiamo, al momento ci troviamo, nel momento in cui stiamo analizzando il giornaliero dell'euro-dollaro, il prezzo si trova 1.12.77 all'interno della zona, questa zona che ho evidenziato di colore d'oro, di colore giallo, ocra, da questa zona potrebbe ripartire una nuova movimentazione al rialzo domani, quindi aspetto stasera come chiudono, come chiude la candela per poter decidere cosa fare. Per quanto riguarda invece Stellina-dollaro, Stellina-dollaro che è partita male, poi adesso sta recuperando terreno, è ritornata un'altra volta in area 1.26.60, ovvero sul 50% di Fibonacci, tracciato sulla prima fase impulsiva dopo il minimo che è stato registrato il 31 maggio, che poi corrisponde al punto D della bullish butterfly, che in questo momento, vedete, abbiamo una possibile movimentazione al rialzo nelle prossime sessioni di trading. Per quanto riguarda invece New Zealand-dollaro, beh, New Zealand-dollaro siamo in area 50.61.8, al test di 0.65.702, è ancora valido il buy stop, in questo momento vedete la situazione resta in pending, siamo ancora alla chiusura di questa fase di correzione che potrebbe proprio terminare su questi livelli, tra 0.65 e 0.65, dove si tratta di 61.8 di Fibonacci, 0.65 ed 702. Molto interessante invece la situazione per quanto riguarda Outgad, continua a movimentarsi al ribasso dopo aver preso diverso profitto proprio nella prima parte, adesso vedete come il prezzo dopo, adesso stiamo a più 20 punti, dopo che la giornata ha chiuso, diciamo siamo arrivati e abbiamo raggiunto un massimo di oltre 50 punti. Target posizionato a pochi punti, al di sopra il prossimo supporto 0.91.0.37. Bene, mentre invece per quanto riguarda le commodity, il gold, il gold in questo momento si trova in una fase ancora, diciamo ha superato questo 0.61.8, si trova nella fase tra il 50 e il 0.61.8, però dobbiamo andare a vedere stasera come chiude il close, se chiude sopra il 0.61.8 oppure potrebbe trattarsi una classica falsa rottura come appunto è successo anche nelle scorse sessioni. Il prezzo quindi ritorna, come ha fatto in questo modo, in questa giornata ritorna un'altra volta all'interno del 61.8, nonché all'interno del 1.337.5 a livello di prezzo. US crude, bellissimo movimento su US crude, siamo ancora a sella a mercato, ieri abbiamo preso profitto, adesso l'operazione ha registrato un altro setup di ingresso a mercato al ribasso, ieri abbiamo preso profitto proprio su questa zona, poi le scorse settimane altri profitti, poi abbiamo lasciato lo stop loss a break even per il secondo target e stamattina praticamente si è chiuso il secondo target sulla parità. Adesso vedete come si sta movimentando molto bene, abbiamo sfiorato già il primo target, il primo target posizionato ad 26.000, scusami, posizionato a 51.95, secondo target invece a 50.75. Bene, mentre invece per quanto riguarda la situazione legata agli indici, allora sugli indici siamo buy sul Dow Jones, che al momento, anche se l'operatività oggi non è stata molto bella da vedere, però vedete in questo momento sul 4 ore si registra una fase ad rimbalzato sul close della seduta di ieri e quindi in questo momento si rompe il massimo, l'ultimo massimo che è stato registrato proprio alle ore 12, esattamente in massimo ad 26.150, la view potrebbe continuare ad andare verso l'alto. Qua si vede molto bene, vedete rimbalzo su 25.964 per la seconda sessione di fila, quindi al momento la view rimane rialzista per il momento. Non è ancora il momento per poter andare in vendita. La vendita, le vendite si possono avere solamente nel caso in cui il prezzo riesce ad riportarsi, a breccare il 25.964 che poi è molto vicino anche a 25.945. Questa è la zona in cui nel caso di un close qua sotto potrebbe andare verso il basso. Bene, per stasera è tutto, quindi ci aggiorniamo domani mattina con l'ultima diretta live della settimana, l'ultima diretta live mattudina della settimana alle ore 8.30. Buonasera da tutti.